Mi sei arrivato un pareggio a Francavilla comunque importante che serve a muovere ancora la classifica e restare nei piani alta, la mente è già rivolta comunque al prossimo impegno, arriva il Città di Montesilvano a 2024. Sì, un pareggio che alla fine ce lo teniamo stretto anche perché è vero che nel finale abbiamo avuto delle occasioni importanti per cercare di vincere ma è anche vero che anche loro avevano avuto prima un'altra grande occasione quindi sostanzialmente diciamo che il pareggio ci poteva stare e va bene. Domenica come hai detto tu abbiamo di fronte una delle squadre favorite della vittoria del campionato quindi sarà sicuramente una partita difficilissima per noi e speriamo che i ragazzi insomma si riescano ad esprimere come stanno facendo. C'è anche un bilancio del cammino del Rapino Maielli in queste prime giornate? Il bilancio penso che sia positivo, anzi molto positivo perché il nostro cammino deve essere quella di una salvezza come lo era lo scorso anno, poi si incatenano tantissime cose che ci hanno permesso lo scorso anno di fare una finale playoff. Però non è assolutamente il nostro cammino una finale di playoff o la vittoria del campionato e di cercare di tenere la categoria perché l'ambiente e la società merita questo.